Silenzio! Presto, anche le malattie buone tutto. Però se non muori nè basta, e dopo non diventi niente. No, perché abbiamo provato a negarsi di un'unzione. Vedete qui sotto? Che la nega prima? Sotto sotto ho provato anche a negare un montese per quello. Non è che adesso uno può scegliere quello che era adesso. Va bene tutto eh? Chico, va bene quella di prima perché era meglio. Va bene tutto eh? Adesso è stanco eh? Com'è stanco? È giovane eh? Vedi che è andato comunque, ha preso circa lo stesso. Guarda. L'avete imbizzarrito prima? Allora ci sono alcuni passaggi. Tutto questo, no? Tutto questo qui... Tutto questo qui... Tutto questo qui è tutto quanto... Tutto il mio eserente. Tutto questo qua, tutto il mio eserente. Tutto questo è il mio eserente. Tutto questo qua, lo stesso il mio eserente... Tutto questo qua. Un sistema è legato per essere qui. Tutto questo qui è stato un minuto. L'impianto di un'altra parte, in Italia, a un'altra parte, in Italia, a un'altra parte, in Italia, a un'altra parte. No, 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 no.